Siamo a Firenze con il dottor Marco Baldanzi che ha gestito il suo primo caso Navident. Gli chiediamo che caso ha gestito e quali sono le sue impressioni. Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo gestito in questo caso qui un terzo quadrante con l'inserimento di impianti in posizione 36-37 e per me che lavoro con la mano destra, diciamo mi sono avvalzo proprio perché con il Navident abbiamo l'esigenza di far leggere bene i due detettori, le due telecamere di utilizzare in questo caso la mano sinistra. È stata molto importante la progettazione a livello protesico per avere il giusto asse di inserimento degli impianti e diciamo a livello chirurgico non ci sono state particolari difficoltà nonostante da utilizzare la mano sinistra. Perfetto, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.